Il dottor Massimo Bonelli è laureato e dottorato in teologia allo Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme, è docente presso l'Istituto di Scienze Religiose, dove insegna anche al Master di Secondo Livello dell'Istituto di Scienze Religiose, è docente anche all'Università Cattolica al terzo anno di teologia e è anche insegnante di regione al Liceo Marie Curie di Tradate, dove è entrato in collaborazione, ha conosciuto la nostra Patrizia, che è stata un po' poi il tramite per questo incontro di stasera. Ecco, stasera quindi siamo alla nostra quarta tappa, la serata ormai insomma sappiamo un po' come si svolge, ci introduciamo con una preghiera che guiderà Andrea, giusto? Andrea, poi leggeremo il brano del Vangelo che leggerà Mauro, giusto? E poi alla fine della riflessione che il dottor Bonelli ci avrà presentato, lasciamo spazio anche alle risonanze o magari a qualche richiesta di approfondimento, o alla condivisione di qualche esperienza di vita che la sua testimonianza avrà suscitato. Ecco, se io dovessi perdere la linea chiedo a qualcuno di subentrare, tanto ormai siamo tutti esperti e capaci di gestire le nostre serate. Ecco, volevo leggere solo, prima di introdurci, l'introduzione che il nostro testo fa all'incontro di stasera, o almeno solo una parte. Sollevare diventa stile della vita adulta, quando riconoscendo i propri limiti sa chiedere aiuto come Gairo, quando accoglie il contatto con Gesù come via di salvezza sull'esempio dell'emoroissa, quando riesce a costruire una fraternità che collabora nella cura e nel servizio reciproci. Ecco, quindi sollevare stasera, visto nella duplice dimensione, noi come coloro che veniamo sollevati dalla mano del Signore, allo stesso tempo diventiamo un po' responsabili del fratello che incontriamo e chiamati quindi noi stessi ad aiutare il fratello a sollevarsi. Detto questo, io direi che possiamo iniziare col segno della croce, la preghiera. Ecco, poi il microfono lo tiene acceso chi parla e tutti gli altri è bene che invece lo mettiamo in silenzioso così da non avere interferenze. Ok, Don Marco ci introduci tu con il segno della croce. Benissimo, sì, è ben arrivato anche Massimo, allora, piacere di conoscere, certo. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Consolatore Perfetto, Spirito Santo di Dio, vieni a portarci il tuo dolcissimo sollievo. Quando il peso della nostra lontananza ci scoraggia, sollevaci, Signore. Quando ci facciamo prendere dalla tristezza, sollevaci, Signore. Quando il male ci schiaccia, sollevaci, Signore. Quando la croce diventa troppo pesante, sollevaci, Signore. O dolce ospite dell'anima, fa che non cerchiamo tanto di essere sollevati quanto di sollevare, di essere consolati quanto di consolare, di essere amati quanto di amare, perché raccogliendo il pianto dell'altro, che le nostre lacrime in te trovano pace e si trasformano in gioia. Dal Vangelo secondo Marco Essendo Gesù passato di nuovo in barca all'altra riva, gli si radunò attorno molta folla, ed egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga, di nome Gairo, il quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza. La mia figlioletta sta morendo. Vieni a imporle le mani, perché sia salvata e viva. Andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Ora, una donna che aveva perdite di sangue da dodici anni e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi piuttosto peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. Diceva, infatti, se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata. E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla, dicendo, chi ha toccato le mie vesti? I suoi discepoli gli dissero, tu vedi la folla che si stringe intorno a te e dici, chi mi ha toccato? Egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Ed egli le disse, figlia, la tua fede ti ha salvata, vai in pace e sii guarita dal tuo male. Chi era Marco? No, Luca, Luca, questo non è Luca, è Marco, il 521. Proseguo il testo, ce l'hai? Probabilmente Claudia sta dicendo che il testo prosegue e allora chiedeva se hai l'ultimo pezzo dai versetti 35 al versetto 43. Non si sente, non si sente, non si sente. Devi attivare il microfono. Stava ancora parlando quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire, tua figlia è morta, perché disturbi ancora il maestro? Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga, non temere, soltanto abbi fede, e non permise a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga, ed egli vide trambusto e genti che piangeva e urlava forte. Entrato, disse loro, perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme, e lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina, e quelli che erano con lui, ed entrò dove era la bambina. Prese la mano della bambina e le disse, talitacum, che significa, fanciulla, io ti dico, alzati. E subito la fanciulla si alzò e camminava, aveva infatti dodici anni. Essi furono presi da grande stupore, e raccomandò loro, con insistenza, che nessuno venisse a saperlo, e disse di darle da mangiare. Va bene, lasciamo pure la parola. Bene, perfetto, grazie. Intanto ringrazio io voi per l'invito, quindi ringrazio Patrizia, che mi ha fatto questo invito, penso, a ottobre, quindi sei mesi fa, per cui la ringrazio davvero tanto. Ringrazio ovviamente anche Claudia per questa opportunità, e ringrazio tutti voi che siete qui presenti. Come avete potuto vedere, o comunque sentire, conosco alcuni di voi. Conosco Elena perché è stata mia studentessa nel corso di Teologia Biblica all'Istituto Superiore delle Scienze Religiose. Conosco Patrizia perché è stata il mio capo per cinque anni, a Marie Curie, e conosco Annunciata perché abbiamo avuto la grazia di poter partecipare a un viaggio in Israele due anni fa. Detto questo, è un piacere per me conoscerli ovviamente. Sono un biblista, per cui come in qualche modo ha anticipato Claudia, io sono un po' più attento ovviamente al testo biblico, nel vero senso della parola, nel senso che cercherò di far emergere la ricchezza del testo anche considerando soprattutto i termini greci che vengono utilizzati, ma che serve per dire come questo testo continui ancora oggi ad essere importante come tutta la Bibbia, in particolare il Vangelo per quanto riguarda noi cristiani, continui ancora adesso a offrire parole di vita eterna, come già San Pietro diceva a Gesù, quando Gesù diceva se volevano andare via. Ed è un testo, il Vangelo di Marco, immagino che lo sapete tutti, il primo Vangelo, scritto per primo, sulla base dei quali poi, il quale è divenuto fonte per gli altri due sinottici, cioè Luca e Matteo, differente invece il Vangelo di Giovanni che non è considerato Vangelo sinottico. Ora, inquadrando il testo subito, intanto vi siete resi conto nella lettura da parte di Mauro che cosa l'Evangelista vuole sottolineare in modo particolare, e lo vedremo cammin facendo, però già subito all'inizio si percepisce l'importanza della fede. L'importanza della fede sia dell'emorraissa che viene guarita con la passività di Gesù, e vedremo, e l'importanza di Jairo che invece il fatto che sia stimolato nel credere e abbia permesso la guarigione della sua figlia. Come potete vedere ci troviamo di fronte a un testo particolare, perché mentre gli altri testi in qualche modo iniziano e hanno una fine, siamo davanti a un testo che viene definito tecnicamente testo a sandwich, dove c'è l'inizio di una storia, in mezzo c'è un'altra guarigione, e questa storia verrà ripresa alla fine della guarigione. Ecco perché è definito a sandwich. Ed è già una particolarità che utilizza l'Evangelista. Qual è lo scopo? Lo scopo dell'Evangelista è quello di mantenere vivo la suspense, cioè il lettore se leggesse il Vangelo come se fosse la prima volta, quindi non tanto io so già tutto, è inutile leggere il Vangelo, ma leggesse come se davvero leggesse qualcosa di nuovo, arrivato a un certo punto, quando cambia completamente scena, si pone la domanda, ma a questo punto come mai l'Evangelista ha cambiato completamente la scena? Come andrà a finire la guarigione o la rivificazione della figlia di Jair? Ora, questo è per dirvi come, lo ripeto, e io lo continuo a dire anche nei corsi e nelle conferenze che faccio, come i Vangeli andrebbero letti senza pregiudizie e precomprensioni, come se fosse la prima volta. Purtroppo questo non avviene perché la gente va in chiesa e dice ah ma so già quello che dice, so già ormai. Se uno invece leggesse per esempio il Vangelo di Marco, che è il primo in assoluto ed è con tutta onestà forse il più coinvolgente, paradossalmente, come se fosse la prima volta si accorgerebbe che già solo i primi 12 versetti, quindi del primo capitolo, è una continua sospanza e una continua sorpresa. Provate soltanto a immaginare il titolo del Vangelo. Vangelo di Gesù Cristo, inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Un lettore che comincia a leggere questo testo non può non domandarsi innanzitutto cosa vuol dire Vangelo, che cosa vuol dire Cristo, che cosa vuol dire figlio di Dio. Poi dopo il Vangelo lo spiegherà a cammin facendo. Ma se ha un minimo di conoscenza, si immagina che verrà subito presentato Gesù quasi come un supereroe. Invece noi sappiamo benissimo che è tutt'altro. Perché all'inizio c'è la presentazione di Giovanni Battista che richiede un battesimo di conversione. Dopodiché l'Evangelista fa entrare in scena Gesù, che dovrebbe essere il supereroe tanto decantato nel titolo, e invece ex-abrutto Gesù entra nella scena e si fa battezzare come tutti i peccatori. Già questo è una sorpresa immensa per il lettore. Il lettore non può non domandarsi come sia possibile. Questo per dire la narrazione che c'è dietro il Vangelo, come davvero il narratore cerchi di stimolare l'attenzione del lettore. Ora, detto questo, dove ci troviamo? Ci troviamo di fronte a un contesto in cui si vede la piena attività di Gesù. Perché appena prima di questi due racconti, uno di rivificazione e uno di guarigione, perché dico rivificazione? Perché non è la resurrezione che abbiamo in mente noi. Noi abbiamo in mente la resurrezione di Gesù, ma qui siamo davanti non a una resurrezione, siamo di fronte a una rivificazione, cioè viene rimessa l'anima in una fanciulla morta che continuerà poi a vivere la vita terrena. La resurrezione è di Gesù che non continuerà più a vivere la vita terrena ed è quello che poi ci aspetterà a noi alla fine dei tempi. Sono due cose completamente diversi. Qui siamo di fronte alla rivificazione come sarà rivificato, lo sapete tutti, Lazzaro nel Vangelo di Giovanni. Ora, detto questo, perché bisogna essere anche precisi sulla terminologia, perché altrimenti magari potremmo anche confondirci. Detto questo, qual è il contesto della piena attività di Gesù? Qui siamo al termine di un contesto che inizia dove si vede subito come Gesù è in grado di salvare, non solo dal pericolo di vita. E vi ricordo che il capitolo 4 ai versetti 35 e 41 parla della tempesta sedata dove gli apostoli sono disperati perché appunto c'è questa mareggiata, questa tempesta che rischia che loro possano morire. E Gesù interviene e salva dal pericolo di morte. Ma non solo. Appena dopo si vede un Gesù che invece salva dal potere dei demoni perché c'è l'esorcismo nel paese dei Geraseni dove appunto tutti quegli indemoniati vanno a finire nei porci che poi sappiamo che fine faranno. E infine ci ritroviamo ancora davanti a Gesù dove è signore della malattia nei confronti dell'emorroissa e signore della morte nei confronti della figlia di Gede. Vedete che il contesto è molto chiaro quindi non ci troviamo in un luogo separato da tutti i miracoli. Gli evangelisti sanno benissimo come trattare la storia di Gesù. Ora se prima, quindi nel paese dei Geraseni, il comportamento della folla nei confronti di Gesù era quello di allontanarlo perché aveva commesso quell'esorcismo che ha fatto paura a tutta la folla, qua ci troviamo in una situazione completamente opposta perché qui la folla invece continua ad essere radonata per lui. Se da una parte lo allontanavano, qui invece ci troviamo in una situazione opposta dove tutti cercano di seguirlo perché vogliono seguire il suo insegnamento, le sue parole e le sue azioni. Guardate nel giro di poco tempo come cambia l'atmosfera, il clima, il comportamento, all'atteggiamento della folla e questo l'abbiamo visto fino alla fine. Vediamo che se da una parte il popolo è sempre favorevole a Gesù, tant'è vero che coloro che cercano di ucciderlo temono il popolo, però sappiamo benissimo che nel momento in cui viene condannato a morte davanti a Pilato, anche il popolo grida crocificilo. Basta pensare la settimana prima, la Domenica delle Palme, tutti che acclamano Gesù sappiamo tutti dopo tre giorni che cosa accade. Quindi vedete che questo cambiamento non è così tanto, è un cambiamento che anche oggi avviene, soprattutto con i social media. È un cambiamento abissale, basta vedere le situazioni di chi cambia opinione e idea dalla sera alla mattina come se niente fosse. Quindi vedete che quello che accadeva duemila anni fa accade completamente nella stessa maniera anche oggi. Ora, questa folla si raduna presso di lui ed è interessante perché qui si dice chiaramente che si radunò attorno. In realtà il verbo greco è al passivo, per cui fu condotta a Gesù. Questo significa, se qualcuno di voi ne ha già sentito parlare, che siamo di fronte a un passivo divino. Cioè il senso è che è Gesù con il suo atteggiamento, o Dio, che è l'agente dell'azione, che attira a sé la folla e che spinge la folla ad andare verso di lui. Quante volte nelle prediche giustamente sentiamo i preti dire siete venuti a messa per quale motivo? Perché siete stati convocati. Stati convocati. E' Dio che vi convoca a. Tant'è vero che ecclesia vuol dire convocazione. Ec kaleo, chiamato a. Ora, su questo sfondo ci troviamo sulle rive del lago di Galileo che cosa accade? lo chiama mare, Talassah, perché il lago di Galilea era talmente grande che veniva definito mare. Però sappiamo benissimo che si parla del lago di Galilea. Ora, viene presentato anche in questo caso in maniera diciamo exabrutto questo Jairo. Jairo di cui non si è mai parlato prima, un capo della sinagoga, quindi un'autorità di un certo livello che nel suo atteggiamento fa vedere che è alla ricerca di Gesù perché va verso Gesù, lo ricerca chiaramente perché appena lo vede non fa altro che cadere ai suoi piedi e lo supplica insistentemente. In greco si dice chiaramente paracaleo auton pollà, molto, lo supplica molto perché la sua figlioletta e qui in realtà si utilizza un diminutivo Zucatrion e non Zucater e alla fine cioè sta per morire e quindi gli chiede per cortesia di andare con lui perché solo lui ponendogli le mani, vedete l'azione di Gesù, ecco il tocco che Gesù può avere nei confronti della donna, della figlioletta, solo così lei potrà salvarsi e vivere. Ora già questo ci fa intuire la fede che ha già io perché il fatto che si butti ai piedi di Gesù significa che lui è già convinto che Gesù possa salvare sua figlia. Ecco perché lo sottolineo adesso perché poi lo vedremo quando riprenderà questa narrazione i termini che utilizza Marco dove fa veramente capire che già è in possesso già io di questa fede. Se io non avesse avuto fede io non sarei andato da questa persona a dirgli vieni imponi le mani e così può salvarsi e vivere. Ora e questa già è una cosa fondamentale che ci deve far capire come la grazia e lo vedremo anche in maniera particolare la grazia di Dio la grazia di Gesù raggiunge tutti ma è inevitabile che se manca l'aspetto della libertà umana cioè la fede questa grazia non può funzionare. Questo è un aspetto che spesso e volentieri non viene considerato o magari ci si dimentica ma invece è così se non c'è la sinergia tra le due parti non funziona. Ora che cosa accade accade che gli dice di andare da lui e va dritto al suo scopo senza batter ciglio immediatamente lui di grande autorità religiosa quindi capo della sinagoga vuol dire che è un ebreo e gli ebrei non è che li vedessero di gran buon occhio soprattutto i capi della sinagoga Gesù sappiamo benissimo per quale motivo ma quindi lui va oltre a tutto questo e nello stesso tempo oltre a vedere questa descrizione socio-religiosa del personaggio del capo della sinagoga si percepisce anche il suo punto di vista psicologico il fatto che vada direttamente da Gesù e si butta ai suoi piedi questo è chiarissimo un atteggiamento di umiltà che è necessario fondamentale allora lui va si comporta in questa maniera e Gesù non oppone alcuna resistenza sappiamo benissimo dal testo che Gesù andò con lui questo dice il testo quindi lui attraverso questa richiesta non fa altro che assecondare la richiesta di Jairo cui abbiamo visto che già la fede è presente e se ne va verso appunto la sua casa qui è interessante perché Marco a questo punto ci dice che molta folla lo seguiva e gli stringeva attorno si stringeva attorno però il fatto che lo seguisse va benissimo perché se lo faceva prima lo sta facendo anche adesso giustamente ma è interessante il verbo sul tribo cioè il fatto di stringersi attorno perché è interessante perché vuole far proprio immaginare al lettore che sta leggendo che cosa sta avvenendo perché il significato di quel verbo non è semplicemente stringere ma è addirittura premere comprimere e questo ci fa capire soprattutto se qualcuno di voi è mai andato in Medio Oriente o comunque a Gerusalemme si rende conto che queste situazioni sono quasi all'ordine del giorno basta pensare alla preghiera dei musulmani che c'è il venerdì alla spianata del tempio o allo shabbat davanti al muro del pianto il venerdì sera quando inizia c'è una folla enorme enorme e quella si può veramente vedere si vede visivamente soprattutto la preghiera dei musulmani all'uscita intorno a mezzogiorno mezzogiorno e un quarto dalla spianata del tempio quando tornano a casa è una fiumana di gente che va per la sua strada e se tu non stai attento ti travolge e guardate che alla Mecca sapete benissimo che c'è il famoso giro intorno alla meteorite e purtroppo lì capita spesso e volentieri che qualcuno ci rimane morto perché se tu inciampi con la gente che ti cammina sopra non c'è niente da fare quindi immaginatevi questa scena questo vuole far vedere lui vuole far immaginarti una scena del genere e soprattutto la cosa interessante utilizza tra l'altro anche i verbi al presente perché scusate all'imperfetto perché vuole far percepire al lettore una situazione lunga cioè quindi un qualcosa che si sta verificando disteso nel tempo ora quello che a noi interessa è che a questo punto con una mossa fulmini a Marco a questo punto cambia completamente scena cambia completamente scena e ci troviamo di fronte a un nuovo personaggio questo nuovo personaggio che sappiamo benissimo essere appunto una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni beh la domanda che immediatamente pone che l'autore il lettore si pone è perché precisare che è tormentata da 12 anni questo lo capiremo dopo perché anche la Fia di Jairo ha 12 anni quindi evidentemente cerca di collegare le due situazioni solo che da una parte è una guarigione dall'altra parte una rivivificazione però hanno in comune non solo i 12 anni uno per quanto riguarda la malattia uno per quanto riguarda l'età ma hanno in comune il fatto che siano tutte e due donne ora a parte questo che cosa succede che Marco cerca di rendere ancora più concreto quello che sta dicendo e come lo fa dicendo in maniera interessante che aveva molto sofferto per opera di molti medici spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio anzi piuttosto peggiorando quindi lui non sta raccontando una dei tanti miracoli e sbrigativamente cerca proprio di rendere concreto quello che lui sta raccontando addirittura dicendo che sono 12 anni che cerca di farsi curare dei medici e non ci sono mai riusciti anzi lei ha speso tanto ma la cosa è peggiorata e purtroppo bisogna dire che l'immagine concreta noi la possiamo anche in qualche modo vivere oggi perché purtroppo anche oggi ci sono molte persone che si trovano in una situazione del genere ora che cosa accade che il narratore focalizza certamente agli occhi del lettore la condizione della donna e chi legge si trova in una posizione privilegiata perché solo il lettore sa che quella donna ha questo problema ecco perché il lettore comincia per l'ennesima volta a rimanere sorpresa a rimanere in sospanza perché sa benissimo che una donna con questi problemi non poteva essere lì non poteva essere lì perché avendo perdite di sangue era considerata impura quindi solo il lettore lo conosce questa situazione per cui non può non domandarsi come andrà a finire perché se l'avessero saputo tutti sappiamo benissimo che fine avrebbe potuto fare quella donna questo è interessante quindi qui il narratore cerca di porre nella condizione tale che il lettore sia avvantaggiato rispetto ai personaggi e a volte può capitare anche il contrario questa è ancora una cosa più interessante la donna però si dice che ha sentito parlare di Gesù anche lei già solo il fatto che abbia sentito parlare di Gesù e vada a lui significa che anche lei in qualche modo ha una fede incoattiva iniziale perché altrimenti avrebbe potuto lasciar perdere anche lei invece no ha sentito parlare di Gesù ha sentito quello che ha fatto Gesù è udito tutto questo decide di andare verso Gesù di andare all'interno della folla in mezzo alla folla e di andare dietro in maniera tale da riuscire a toccare il suo antenno perché lei dice ecco qui un'altra cosa interessante perché si percepisce chiaramente in punto di vista psicologico se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti sarò salvata è ovvio che solo una frase del genere che anche qui attenzione sa solamente il lettore fa immaginare subito la fede di questa persona anche solo toccare le sue vesti non aggiunge alcuna richiesta non avanza alcuna richiesta si pone solo dietro per toccare le sue vesti è ovvio che non si tratta anche questa è una ricerca chiaramente ma non si tratta di una ricerca eclatante anzi giustamente lei la vorrebbe addirittura invisibile questa richiesta considerata la sua situazione di cui abbiamo appena parlato perché quella situazione di essere in queste condizioni non permetteva nemmeno che lei avesse una vita sociale quindi quando poi sarà salvata vedremo che cosa significa il fatto che Gesù la salvi allora che cosa succede che la sua condizione fisica non le permette una manifestazione pubblica né qui né in altra occasione e ovviamente il lettore è al corrente che ci sono delle leggi molto chiare per esempio nell'antico testamento il libro delle viti col capitolo 15 che dice che in questo atteggiamento lei in questa condizione lei non avrebbe mai potuto trovarsi in mezzo alla folla allora la donna va all'interno della folla pensa che a questo punto lei possa essere definitivamente salvata e subito una volta che tocca il mantello subito euthus attenzione questo è un avverbio che Marco utilizza immediatamente sempre euthus euthus e subito e subito e subito il flusso di sanque che attanaia la donna si arresta ora si rende conto immediatamente lei per prima che il suo corpo è guarito e lo dice chiaramente le si fermò il flusso di sangue e capì che era guarita dal male Mastix dal suo flagello ancora quindi immaginate il flagello soltanto il lettore e l'emorroissa conoscono questo aspetto nessun altro ora però come si subito immediatamente si ferma il flusso di sangue immediatamente accade qualcos'altro e si ferma anche Gesù perché lei anche lui riconosce mentre la donna ha riconosciuto di essere guarita anche lui riconosce che in qualche modo una forza una potenza in realtà è dynamis potenza è uscita da lui e a questo punto se ci fate caso il racconto rallenta perché bisogna spiegare che cosa sta accadendo subito Gesù si rende conto dall'uscita si volta e domanda incredibilmente perché davvero è incredibile quello che lui domanda chi mi ha toccato se è vero quello che vi ho appena detto quindi immaginate una situazione dove tutta la feola comprime da una parte dall'altra siamo di fronte a una massa una fiumana di gente che passa lui domanda chi lo ha toccato la reazione dei discepoli e la reazione che avrebbe avuto chiunque anzi quasi mettono in ridicolo il maestro se ci pensiamo con tutto quello che ti circonda come è possibile che tu faccia una domanda del genere e tuttavia lui insiste insiste perché si rende conto che qualcuno lo ha toccato e si guarda intorno perché vuole sapere chi lo ha fatto allora il fatto stesso che scusate non so vedo un cellulare più buono Donatella bene bene no 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 va bene va bene e beh ogni tanto ci vogliono questi momenti di pausa dunque Gesù insiste perché ovviamente vuole sapere chi lo ha toccato perché insiste perché Marco continua a porre a sottolineare questa esistenza di Gesù perché vuole dimostrare appunto come fosse importante lo sforzo per guarire questa donna tra l'altro giustificando a questo punto il fatto che fino a quel momento nessun medico fosse stato capace di guarirla quindi come questa malattia fosse davvero forte e potente allora ecco che a questo punto le parole che vengono pronunciate direttamente da Gesù dimostrano anche questa volta il punto di vista psicologico di Gesù perché lui se ne rende conto che la forza è uscita da lui e quindi lui vuole dimostrare che nessun potere può essere estorto da Gesù senza che lui se ne accorda allora rendendosi conto della situazione provocata e a questo punto il lettore lascia immaginare la situazione l'allarmismo che si sta provando che si sta vivendo in quel momento la donna non può più rimanere nascosta e infatti si dice subito che la donna impaurita e tremante sapendo ciò che le era accaduto venne e si gettò davanti e disse tutta la verità ora è chiaro che la donna proprio perché è consapevole della sua condizione di quello che avrebbe potuto rischiare per profonda umiltà non fa altro che fare lo stesso gesto che in qualche modo aveva fatto il Jairo cioè si butta ai piedi di Gesù anche lei e gli racconta tutta la verità e qui è interessante come si dica verità in greco aleteia che in realtà significa c'è la A privativa davanti l'antano significa nascondere quindi non nascosta la verità è ciò che è agli occhi di tutti che non si può nascondere e quindi nonostante la sua condizione che doveva essere nascosta davanti a tutti perché sennò sarebbe stata condannata lei senza nessun problema non la nasconde più e quindi dice tutta la sua verità senza più aver paura della reazione della folla ora anche questa volta la sola descrizione del narratore manifesta il punto di vista della donna perché non fa altro che buttarsi ai suoi piedi e dire tutta la verità la preoccupazione della donna prima era proprio quella di comunicare da fronte a tutto il popolo la verità ma oggi non ce l'ha più non ce l'ha più questa preoccupazione nonostante fosse stata impura e quindi non doveva essere neanche lì e quindi secondo la cultura giudaica doveva assolutamente essere da tutt'altra parte soprattutto in una situazione in cui tutti si comprimano uno con l'altro e sarebbero diventati tutti impuri ecco che lei che senza nessun problema e quindi con grande sorpresa del lettore vedete che prima vi dicevo il lettore si porrà la domanda adesso che cosa accadrà con una donna del genere con sorpresa anche del lettore ecco che a questo punto lei con una fede invidiabile perché una fede del genere dimostra che sconfigge tutti i muri e tutti gli ostacoli abbandona dietro di sé qualsiasi pregiudizio e qualsiasi geduizio e qualsiasi reazione che potrebbero aver avuto qualsiasi altro personaggio della folla e va da Gesù senza paura e Gesù mostra senza alcun problema la sua il suo apprezzamento perché gli dice Zugater figlia la tua fede ti ha salvato vai in pace e si guarita dal tuo male vedete che ancora una volta è importantissimo è Gesù stesso che stavolta gli dice quello che già il lettore aveva percepito cioè il fatto che questa donna avesse una fede invidiabile Gesù stesso se ne accorge anzi lo sottolinea la tua fede ti ha salvato e addirittura gli dice si guarita dal tuo flagello un'affermazione del genere ha un'importanza fondamentale per quanto riguarda il testo innanzitutto perché la chiama Zugater cioè figlia figlia perché vuol dire che è entrata a far parte della famiglia di Gesù e che Gesù stesso aveva presentato quando ha incontrato la madre e i suoi fratelli al capitolo 3 quando gli dissero tua madre e i tuoi fratelli sono fuori che ti aspettano che ti cercano e lui ha risposto mia madre i miei fratelli sono coloro che fanno la volontà del padre mio ecco la dimostrazione concreta davanti a una fede a chi fa la volontà del padre suo ecco che diventa figlio e quindi viene a far parte della famiglia viene a far parte della famiglia di Gesù perché è consapevole che la donna ormai fa la volontà del padre suo telema la fede della donna è talmente forte che si procura la salvezza e qui è dimostrato quello che dicevo prima come davvero la risposta dell'uomo sia necessaria e fondamentale perché possa davvero ricevere la salvezza Marco utilizza il verbo sozo cioè salvare addirittura al perfetto perché sta a indicare voi sapete che in greco i tempi hanno la qualità non la quantità temporale per cui la qualità del tempo perfetto è un'azione che è stata provocata nel passato ma che continua a far perdurare i suoi effetti nel presente quindi questa salvezza accompagnerà la donna sempre ora Gesù però non si limita solo a dirgli che la sua fede l'ha salvata gli dice addirittura vai in pace questo vai in pace ha un significato estremo enorme perché questo andare in pace che noi sappiamo benissimo in ebraico è tradotto con shalom sapete che gli ebrei si salutano con shalom ma dietro lo shalom non c'è semplicemente la pace che intendiamo noi cioè l'assenza di guerra la pace intesa dalla radice shalom è la realizzazione dell'uomo e della donna cioè l'essere finalmente a posto con se stesso vivere una vita come deve essere vissuto senza aver più timore di niente di nessuno quando gli dice vai in pace è chiaro che intende dire che a questo punto il timore nei confronti dei giudizi delle reazioni degli altri non devono essere più un assillo non deve più nascondersi a questo punto la donna può finalmente vivere il resto della sua vita con serenità potrà realizzarsi come donna non stare più nascosta ecco facciamoci caso che il fatto che pace ha un significato molto più prendiante di quello che immaginiamo noi quindi le parole di Gesù mostrano certamente il suo aspetto valoriale il suo diciamo punto di vista assiologico perché lui mostra come il disegno divino preveda la salvezza di tutti gli uomini ma per essere salvati è necessario fare la volontà del padre per cui avere la fede allora a quel punto si è realizzati e si può cominciare a far parte dalla famiglia di Dio ora è chiaro che Gesù secondo la mentalità dell'epoca di fronte a una donna del genere sarebbe dovuto rimanere impuro per tutta la giornata perché ha toccato una donna che aveva le perdite di sangue e tuttavia si è fatto toccare e addirittura ha parlato con una donna e ha considerato il gesto della donna come un atto di fede guardate che qui si percepisce immediatamente il cambiamento di mentalità che ha Gesù nei confronti della mentalità dell'epoca senza troppi giri di parole questa è la verità è ovvio che per far vedere come Gesù abbia un cambiamento rispetto alla mentalità dell'epoca si fa sempre riferimento al discorso del sabato che fa le guarigioni nel giorno di sabato quando sarebbe stato impossibile secondo i farisei ma qui dimostra addirittura che va molto oltre ora il narratore finalmente ritorna a raccontare quello che aveva iniziato cioè vale a dire a raccontare la storia la storia che aveva iniziato in riferimento alla figliola di Jairo e qui monta la curiosità del lettore perché il lettore a questo punto si domanda beh se ha guarito l'emorroissa sicuramente farà una cosa del genere con la figlia di Jairo certo però nel mezzo c'è un altro aspetto che ancora una volta va considerato allora intanto Gesù sta ancora parlando con la donna che arriva qualcuno dalla casa del capo della sinagoga e gli va a dire a Gesù scusate a Jairo tua figlia è morta perché disturbi ancora il maestro intanto Marco utilizza il verbo apotnesco cioè morire a lauristo e lauristo come azione in greco significa un'azione puntuale che è avvenuto una volta per tutti la figlia è morta punto per cui ovviamente quando uno legge il lettore che legge conosce questa caratteristica sa che vuol dire che a questo punto è inutile dar pena al maestro ormai è fuori gioco è morto una volta per tutti l'utilizzo appunto del verbo di dar pena dare fastidio sottolinea l'estrema rassegnazione è inutile che disturbi il maestro ormai la morte della ragazza pone Gesù fuori ogni gioco possibile un conto è la guarigione un conto è una donna morta e invece cosa succede ma questo è sottolineato anche dal verbo è per quello che lo dico attenzione perché il verbo è chiaramente morta una volta per tutti ora Gesù ascolta quello che è stato detto perché lo dice chiaramente Marco udito quanto dicevano tuttavia lui dice a Jairo si rivolge a Jairo con un oracolo di salvezza non temere perché dico oracolo di salvezza perché tutte le volte che viene utilizzato il non temere al tiraebraico in greco è un oracolo di salvezza cioè significa che questo oracolo di salvezza interviene tutte le volte che bisogna indicare la certezza di come tutto sia sotto il controllo di Dio questo non temere è lo stesso non temere che noi sentiamo dall'angelo nei confronti delle donne che vanno al sepolcro e non trovano Gesù tutto è sotto il controllo di Dio questo altira non temere in ebraico è lo stesso che troviamo quando Dio stipulerà l'alleanza con Abramo non temere nonostante tu sia vecchia e nonostante vecchio e nonostante tua moglie sia sterile e di una certa età tu avrai una discendenza non temere e allora a questo punto non solo gli dice non temere ma addirittura gli ordini ha di avere fede condizione unica ed essenziale come abbiamo visto prima con l'emorruessa per cui gli dice mefobum monon pisteue monon solo soltanto tu abili fede il fatto che sia un imperativo presente il tempo presente indica la durata la continuità dell'azione sta a significare proprio che Giairo deve continuare a credere ecco perché ho sottolineato il fatto che prima lui andasse e si ponesse ai piedi di Gesù vuol dire che già credeva e davanti a una situazione così drammatica cioè la figlia morta Gesù dice non temere oracolo di salvezza continuo a credere guardate che questo è un insegnamento per tutti perché quante volte davanti alle situazioni drammatiche noi a questo punto ci rassegniamo e chiudiamo ogni possibilità qui invece è chiaro Gesù non temere continua a credere allora per mostrare l'efficacia delle parole è necessario che Giairo debba assolutamente continuare a credere e Gesù continua a far vedere al lettore come la fede rimanga l'unica risposta possibile che permette la realizzazione del piano divino allora però non ci siamo ancora presso la casa e Gesù a questo punto vieta a chiunque di seguirlo e il verbo utilizzato è synacoluteo acoluteo è il verbo della sequela colui che segue Gesù la sequela è colui che segue Gesù e mette i suoi piedi nelle orme lasciate dal maestro senza deviare a destra e a sinistra vedete la pregnanza del termine e qui dice nessuno deve seguirlo se non i soliti tre apostoli che tutti quanti conoscete cioè Pietro Giacomo Giovanni che sono sempre i tre apostoli che lo accompagneranno nei momenti più importanti perché saranno quelli che saranno presenti di fronte alla trasfigurazione e saranno quelli che si porterà nel Gezzemani a pregare con lui i tre soliti apostoli allora queste condizioni vanno nella casa del capo e Gesù si trova attenzione interessante il verbo che utilizza ancora una volta Marco teoreo dal quale deriva teatro il teatro è uno spettacolo che se uno vede inevitabilmente si trova a contemplare in maniera partecipativa e coinvolgente Gesù si trova a contemplare in maniera coinvolta questo trambusto che si trova di fronte a sé perché trova gente che piange in continuazione e soprattutto urla e il verbo urlare qui interessante utilizzato è alalazzo perché alala era il famoso grido di guerra dove tutti gridavano in maniera tale che rimbombasse quindi ecco perché Gesù si trova di fronte a uno spettacolo perché si trova di fronte a una situazione del genere allora che cosa accade accade che i tempi presenti che utilizza Marco indicano tra l'altro il fatto che questa scena è distesa nel tempo perché è continuativo quindi ecco noi dobbiamo anche immaginare tutto quello che si sta trovando di fronte a Gesù lui entra in casa vive questa situazione e davanti a tutti i presenti che si disperano dice con molta tranquillità perché vi agitate e piangete la bambina Paidion questo è il termine non è morta a Potnesco stesso termine di prima ma dorme Cateudo ora anche qui è interessante innanzitutto il fatto che Gesù mostra tutta la sua cura e l'affetto nei confronti della bambina chiamandola Paidion che vuol dire bambina e indica proprio tutta la sua cura e tutta la sua attenzione nei confronti di questa ragazzina e poi i tempi verbali di Marco ancora una volta mostrano la pregnanza di quello che si vuole dire perché il verbo a Potnesco è ancora un'azione puntuale cioè l'auristo e tuttavia Gesù dice che la bambina non morì come loro pensano ma addirittura sta dormendo e utilizza il verbo al presente continuativo non è mai morta stava solo semplicemente dormendo ora a questo punto che cosa succede che questa situazione lascia spazio alla speranza e allora manda fuori tutti nonostante sia deriso da tutti lui manda fuori tutti ecballo espelle guardate che il verbo ecballo è lo stesso verbo che viene utilizzato per indicare l'espellere i demoni quindi pensate Gesù si trova davanti a tanta gente che lo prende in giro li espelle e si tiene col sé solo i genitori ovviamente e i tre che si era già portato dentro solo a quel punto entrerà nel luogo in cui si trova la bambina e appena entra in quel luogo ancora una volta il maestro fa un gesto particolare afferra con forza perché il verbo krateo vuol dire afferrare con forza kratos in greco vuol dire forza afferra con forza la mano della bambina e ordina di alzarsi in aramaico in aramaico sarebbe taliatakum che vuol dire appunto lui giustamente Marco dice talitakum perché è traslitterato in greco e ne offre immediatamente l'interpretazione e il verbo è metermeneuo ermeneutica vuol dire ermeneutica vuol dire interpretare quindi lo interpreta in greco dicendo to korasion soi lego e gheria cioè fanciulla ti dico alzati è interessante perché talia in aramaico vuol dire fanciulla e lui traduce interpreta in maniera perfetta korasion in greco che vuol dire fanciulla non dice paedion dice korasion che vuol dire fanciulla quindi è perfetta la traduzione da parte di Marco fedele all'anamaico allora che cosa succede che questa volta l'imperativo è l'imperativo di egeiro egeiro è il verbo della risurrezione che verrà utilizzato per indicare la risurrezione di Gesù al capitolo 16 il cui significato è appunto svegliare la bambina sta dormendo svegliati più che mai il comando sta proprio per indicare la realizzazione della donna della bambina tant'è vero che la fanciulla non fa altro che alzarsi e qui usa Marco l'altro verbo della risurrezione che tutti voi conoscete anistemi Anastasis è il luogo della risurrezione allora a questo punto solo a questo punto il narratore comincia a dire l'età della fanciulla 12 anni e subito il lettore la collega con i 12 anni dell'emoroissi della malattia ma perché lo dice qui guardate che Luca nel suo racconto il fatto che la figlia di Jairo ha 12 anni lo dice subito all'inizio non aspetta di dirlo alla fine allora qui sembra che Marco invece giustifichi il fatto che avesse 12 anni perché subito dopo dice che poteva camminare ella può camminare e infatti aveva 12 anni sembra che l'età la voglia dire per giustificare il fatto che la fanciulla si sia risvegliata e poteva camminare a questo punto tutti si meravigliano e vengono presi da grande ecstasis in greco è proprio ecstasis che tutti quanti conosciamo essere al di fuori del mondo sensibile perché non credono ai loro occhi e la meraviglia dei genitori indubbiamente non fa altro che collegarsi alla meraviglia del lettore perché nonostante tutte le vicissitudini soprattutto l'incredibilità l'incredulità di chi era presente alla morte della bambina la bambina è stata rivificata ora è interessante che tuttavia e qui è l'opposto di quello che è accaduto con l'emorroissa il mistero deve rimanere perché Gesù ancora una volta ordina che nessuno con insistenza che nessuno conosca l'accaduto e poi ordina di dar da mangiare il fatto che a nessuno debba essere detto quello che è accaduto e non lo dice Marco quindi qui gli studiosi pongono delle possibili soluzioni sapete tutti che Marco è maestro del segreto messianico è giusto che si sappia chi è Gesù solo alla fine quando risusciterà e a quel punto si capirà che cosa significa Messia perché voi sapete benissimo che gli apostoli sono ebrei e nonostante vivano con Gesù loro hanno in mente che il Messia è colui che è talmente potente che distruggerà tutti coloro che conquistano il paese di Israele questa è l'idea del Messia che ovviamente non è l'idea del Messia di Dio quindi conoscere Gesù sotto questo aspetto prima che lui muoia e capiti quello che gli capiti è molto pericoloso tutte le volte che la gente si avvicina per farlo re lui scappa in luoghi deserti perché non è il momento si potrà scoprire cosa vuol dire Messia solo quando lui risorgerà allora a questo punto il motivo per cui non viene raccontato questo è perché deve rimanere oscuro però l'unica cosa che noi sappiamo con certezza è che il progetto di Dio resta sempre il bene e la salvezza di un uomo allora noi per concludere ci siamo trovati di fronte a due ricerche una che è quella di Jairo per 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 sua figlia e una è quella dell'emorroissa perché potesse guarire ora è interessante come da una parte siamo di fronte ad una ricerca umile e timorosa che però dove Gesù rimane passivo chiaramente e che tuttavia Gesù rende pubblica la guarigione di fronte a tutti che in realtà non doveva accadere l'altra invece è convinta da parte di Gesù dove Gesù nonostante sia attivo non rende pubblico ciò che è accaduto per i motivi che vi ho detto però l'epilogo è lo stesso perché da una parte c'è la guarigione dalla donna e dall'altra parte la rivificazione della FIA di Gesù ora quello che davvero secondo me dobbiamo trattenere da un insegnamento del genere da un testo del genere è sicuramente il fatto che se gli uomini non sono disposti a credere e convinti delle parole del maestro e convinti che le parole del maestro siano degni di fede beh allora a questo punto se non ci si comporta in questo modo mettendo in pratica la volontà del padre la salvezza di Dio purtroppo non ci può raggiungere ora questo è davvero chiaro Dio si fa Gesù si è sempre fatto trovare non si è mai nascosto prima in maniera passiva guarito poi in maniera attiva guarito non si è mai tirato indietro però ecco la cosa che davvero ci fa capire che ci fa che noi dobbiamo tenere stretto è che qui c'è un collegamento molto forte tra la salvezza e la guarigione noi dobbiamo capire che quando si parla di salvezza non dobbiamo sempre solo ed esclusivamente pensare questo è uno dei difetti che abbiamo alla salvezza escatologica cioè alla fine dei tempi la salvezza inizia qui e ora e lo ha dimostrato Gesù con l'emorroissa quando gli dice va la tua fede ti ha salvato quindi vuol dire che qui già ora tu sei salvo in occasione di essere salvo definitivamente nella vita eterna ma già ora tu lo sei invece purtroppo spesso si ha l'impressione come la famosa Maria del Vangelo di Giovanni che la salvezza avvenga nei tempi in cui ritornerai no no noi siamo già salvi già solo il fatto che Gesù è morto e risorto per noi ci deve dimostrare il fatto che noi abbiamo questa fede che noi siamo già risorti siamo già nella vita eterna perché Gesù ha distrutto la morte ha sconfitto la morte io sono già nella vita eterna e questo credi nella Pasqua del Signore Gesù Cristo nel suo passaggio dalla morte alla vita sì e allora sei già nella vita eterna la morte non è altro che un passaggio per farti arrivare dall'altra parte ma tu lo stai già vivendo qui e ora e questa salvezza dimostra la stessa identica cosa quindi Gesù oltre ad agire e a salvare a guarire e anche a rivivicare non ha fatto oltre che accogliere le persone da una parte la morraissa l'ha accolta la chiamata figlia dall'altra parte la cura e l'attenzione da parte della figlia di Jairo che l'ha chiamata Paidino bene io direi che a questo punto ho già parlato troppo e mi chiedo scusa se a volte ho utilizzato una tecnologia forse un po' complicata però ho cercato speriamo che sia stato chiaro mi sentite? grazie grazie per questa lettura così approfondita e così addentro insomma che ci ha dato di questa pagina del Vangelo giustamente come diceva all'inizio bisogna affrontare ogni volta ogni pagina del Vangelo come se fosse la prima volta e questa sera forse davvero così così è stato nel senso una pagina nota eletta tante volte è stata così nuova direi come fosse stata la prima volta e questo per me almeno è già una prima considerazione sul metodo che questa sera ci ha passato quindi un modo di affrontare di approcciare la parola di Dio il Vangelo nello specifico con questa profondità anche con questa come dire conoscenza letteraria quasi anche proprio della pagina con la curiosità anche di andare a scoprire a leggere cosa c'è dietro ad ogni singola parola perché ogni singola parola l'evangelista non l'ha detta e non l'ha scritta a caso ma parola ispirata illuminata dallo spirito e che quindi ci parla e ci racconta insomma la rivelazione di Dio e quindi una prima questo ringrazio lascio la parola anche agli altri magari se vogliamo raccogliere impressioni anche domande magari puoi poter alla fine lasciare ancora la parola al professor Bonelli magari per raccogliere un po' la sintesi delle nostre riflessioni intanto lascio parola ad altri va bene visto che il tempo finiremo verso le 22 spero è un po' breve vado veloce sono due cose la prima era un po' legata al 12 anni ecco io tutte le volte che ho affrontato questo che mi è capitato di incontrare questo testo mi è sempre colpito i 12 anni che nel caso della bambina voleva dire entrare nell'età della pubertà cioè della capacità di dare di generare vita e nel caso della donna invece 12 anni di perdite continue che quindi voleva dire non essere toccata da uomo che quindi voleva dire rinunciare alla possibilità della maternità e io invece senza l'invece vedo e mi piace pensare che l'intervento su tutte le due le donne è quella che ha permesso di continuare una generazione di vita e quindi di far partecipare l'umanità rappresentate da queste due a completare l'opera della creazione divina le richiama gli ridà la potenza di generare vita ecco questo mi era sempre piaciuto come pensiero invece la cosa che ecco l'altra cosa è che un po' la martignana uno cerca sempre di capire in quale ruolo potrebbe individuarsi cioè nella scena che ci sta presentando che ci sta facendo vivere Marco quale potrebbe essere il ruolo la cui posizione psicologica assomiglia più alla tua ecco per capire un po' che cosa può stare dire a te in quel momento in questo momento della tua vita in questo momento delle tue condizioni e qui faccio una fatica grossa perché non riesco a identificarmi con le donne al limite mi identifico con quelli che guardano dal di fuori c'è perché ecco ad esempio devo pensare che nella mia vita non ho mai avuto se devo essere che se devo ragionare con calma non ho mai avuto eventi o condizioni così devastanti come quelle che ha avuto la donna Moroissa a cui era appunto impedito alla generazione impedita dello sposarsi impedito di avere un buon rapporto con un uomo che la compisse e così via piuttosto che nella figura del padre verso che non ho mai avuto problemi sostanziali con i figli con i parenti stretti insomma ecco quindi non sono sto guardando le cose dall'esterno non mi riesco a immedesimarmi una delle due principali attori sono un po' sullo sfondo la cosa che forse qui invece mi rende un po' più e lo lasciamo poi una risposta più avanti un po' più problematica è un po' questa Mauro scusa Mauro Mauro scusa il professor Bonelli ha perso la connessione quindi vabbè condividiamo tra noi quindi ve la dico a voi ve la dico a voi sperando che lui possa ricollegare la vera domanda scusa no 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 risponderai tu Claudia non c'è problema la vera domanda è un po' questa ecco noi un passaggio importante del patrimonio della fede che ci passano è un po' quella che viene sempre a dire che ci viene sempre a dire che Gesù quindi come Dio è sempre accanto a te nelle condizioni della tua vita che siano belle che siano dure che siano brutte e che il l'obiettivo della tua vita perdonate il passaggio ma lo diciamo nel Padre Nostro non è quello di vivere al meglio delle possibilità ma è quello di fare la volontà del Padre questo è come l'ha anche riconosciuto il Massimo come qualche paragrafo prima tua madre i tuoi fratelli sono fuori come ce l'ha detto no no i miei padri i miei fratelli sono coloro che fanno la volontà del Padre questo è l'obiettivo cioè la battuta è l'importante è la salute no no per un cristiano non è mica vero questo l'importante è la volontà del Padre due sappi che in qualsiasi situazione della tua vita lieta triste dura tu stai giocandotela sei lì insieme a Gesù Cristo ecco io ogni tanto quando trovo queste forme non ogni tanto il pensiero ecco ho timore che alcune volte questi passaggi siano invece intesi come ah i medici non sono serviti a nulla quindi adesso mi affido al miracolo ecco ai miei figli io non li educherei mai così non gli darei mai quando i medici non serviranno più a nulla affidati al miracolo ma gli dico no quando i medici non serviranno più a nulla perché non riescono a intervenire sul tuo problema accetta il tuo problema vivi il tuo amore verso gli altri nel tuo problema ecco ogni tanto penso che non so se come dire diamo una lettura un po' troppo di un Dio posto a servire i nostri desideri Dio ci serve perché mi risolve quel problema lì invece mi hanno sempre insegnato che Dio mi sta accanto nei problemi perché sono sempre l'occasione per poter essere bene per gli altri mi fermo qua vedo che non rientra penso che proprio l'abbiamo perso anche come nome in questo momento non lo vedo più presente andiamo a berci una birra allora non so se tu Don Marco vuoi dire qualcosa Mauro a riguardo io vabbè brevemente sono d'accordo con quello che tu dici Mauro però non so per un'esperienza personale mi sono trovata a un certo punto a interrogarmi se fosse buona non tanto buona cosa no ma dico dei termini che non dicono pienamente quello che vorrei dire viene a dire fosse buona cosa fosse lecito nessuno dei due in realtà proprio dice quello che vorrei dire però per intendermi in qualche modo chiedere eccolo qua chiedo scusa è tornato adesso capita adesso Mauro riformula la domanda io stavo solo condividendo un po' l'esperienza personale così magari poi la integra no cioè la domanda è relativa al chiedere il miracolo al Signore piuttosto e però allo stesso tempo come questo si pone rispetto al pregare sia fatta la tua volontà poi Mauro la riesprime magari in modo preciso io stavo dicendo appunto che anch'io mi sono trovata in un frangente della vita a interrogarmi cioè chiedo il miracolo e allo stesso tempo prego sia fatta la tua volontà però penso che comunque dietro a quella relazione di figlia nei confronti del padre ci stia anche però come dire la possibilità di dire a quel padre so che il tuo amore è tanto grande e che tu mi sei vicino in questa sofferenza che sto vivendo che che mi permetti anche di chiederti la guarigione che mi permetti anche che io osi chiedere sì anche la guarigione sapendo che non è cioè non è vincolato a quello la mia fede però vedi la mia sofferenza te la metto nelle tue mani e questa sofferenza mi fa il bene che voglio all'altra persona mi fa chiederti anche che possa guarire e quindi e però allo stesso tempo prego sia fatta la tua volontà quindi non è che vincolo la mia fede al miracolo questo no però ecco in questa relazione con te che sei padre lascia e permettimi ecco di poterti rivolgere anche questa questa preghiera in questo vabbè mi piaceva molto quello che diceva Massimo non lo sapevo l'ho un po' compreso stasera quella quella parola di Gesù non temere ecco come dietro a questa parola non temere cioè l'ha chiamato oracolo di salvezza significa che tutto è sotto il controllo di Dio ecco per me mi è piaciuto molto molto ora pacificante ne farò tesoro ecco di questa di questa parola io avrei una domanda forse un po' grossa però vabbè la butto lì perché più volte ci ha detto che appunto giustamente la fede è l'unica risposta che permette la realizzazione del piano di Dio ok però questo poi mi pone il problema di chi di chi non incontra il Dio di Gesù a chi non è data questa conoscenza per la storia nella quale si trova a vivere e allora lì come si pone il problema della salvezza su questo aspetto sicuramente la storia della Chiesa ha cercato in diversi modi di dare una risposta a livello biblico io posso dire che se voi ci fate caso in ogni circostanza si percepisce che sia l'emorroissa sia in qualche modo il capo della sinagoga è venuto a conoscenza di Gesù e magari in qualche modo abbiano già avuto l'opportunità di incontrarlo da lontano ora è ovvio che bisogna capire in che situazione ci troviamo quindi è vero che dipende dalla storia di ognuno di noi chi ha la possibilità di conoscerlo perché ha la grazia magari di vivere in un ambiente in cui fa veramente tesore e conoscenza di Gesù a questo punto è più avvantaggiato chi questo non lo può vivere è ovvio che a questo punto la misericordia di Dio è quella che agisce in maniera particolare qui io penso che il problema sia più legato a chi lo conosce e chi lo ha incontrato e a questo punto ci si domanda ma la fede che hai in una persona che hai incontrato è davvero tale per poter comprendere che lui è davvero degno di fede perché questa difficoltà l'hanno avuto gli suoi stessi apostoli nei tre anni in cui hanno vissuto con lui cioè hanno dimostrato in continuazione Marco e Maestro in questo che hanno sempre non capito nulla di quello che Gesù ha detto ma lo hanno sempre hanno sempre capito niente quindi da una parte noi siamo certamente diciamo in una posizione in cui ci troviamo tranquilli ma sappiamo anche dall'altra parte che nel momento in cui noi invece dovessimo fare tesoro di quelle parole e il Vangelo ha questo scopo di porre viva la memoria dei momenti vissuti Gesù quando era sulla nostra terra allora a questo punto nel momento in cui noi facciamo tesoro di queste parole e lo riteniamo degno di fede certo che siamo più avvantaggiati ma questo non significa non cadere negli errori in cui sono caduti gli apostoli noi dovremmo essere capaci questo è il passo difficile che ci viene richiesto ma per vivere una vita riuscita e attenzione senza imporre niente a nessuno perché Gesù si è sempre proposto non si è mai imposto a nessuno sappiamo benissimo gli apostoli Pietro lo ha rinnegato tre volte Giuda sappiamo benissimo che cosa ha fatto tuttavia lui non si è mai imposto si è sempre proposto e ha lasciato sempre libertà assoluta è ovvio che nel momento in cui tu segui le sue parole come già l'Antico Testamento continuava a sottolineare basta pensare al Deuteronomio io vi pongo davanti due vie quelle della morte quella della vita quella del bene quella del male sei tu che devi scegliere io più di questo non posso fare ora per cui da questo punto di vista è ovvio che alla domanda alla sua domanda inevitabilmente chi non ha avuto opportunità di conoscere Gesù e beh lui ci penserà poi buon Dio nel momento in cui sarà il momento opportuno a fare quello che deve fare però io penso che qui stiamo parlando in modo particolare proprio di chi è credente e non dobbiamo pensare che chi è credente ripeto la storia di Gesù la storia terrenale lo dimostra abbia la certezza di una fede incrollabile perché questo non lo è però il Vangelo serve proprio per capire che noi dobbiamo farlo quel passo in avanti e perché la responsabilità dell'uomo è importantissima è importantissima già le prime pagine della Genesi lo dicono basta pensare al peccato originale sei tu che scegli Adamo ed Eva hanno fatto quello che hanno fatto Caino ha fatto quello che ha fatto però dobbiamo ricordarci che prima di fare quello che hanno fatto Dio li aveva messi al corrente gli aveva insegnato la buona via a Caino prima che facesse quello che ha fatto gli ha detto chiaramente il peccato sta accovacciato alla tua porta ma sei tu che deciderai se farlo entrare oppure no quindi la responsabilità è assolutamente fondamentale e la fede non deve essere vissuta allora la fede è certamente un dono e chi ce l'ha se la deve tenere ben stretta lo sappiamo benissimo tuttavia deve essere una fede che però intanto si fida ciecamente e si abbandona totalmente a un Dio che bisogna sapere essere sole ed esclusivamente per il bene del mondo quindi già questo e mi rifaccio un po' alla domanda che era stata fatta precedentemente alla quale lei ha risposto è vero sia fatta la tua volontà che è quello che noi chiediamo al Padre nostro assolutamente ma questo non significa che non corrisponda alla mia richiesta del miracolo nel senso che se io sono consapevole che Dio lavora solo per il mio bene perché questo è quello che racconta la storia del popolo di Israele e la storia di Gesù beh è ovvio che a questo punto sia fatta la tua volontà e come se corrispondesse alla mia richiesta di miracolo io ci terrei a rimarcare che c'è una responsabilità però perché se portiamo questo ragionamento agli estremi allora vuol dire che mi sollevate dalla responsabilità di fare il possibile non è un bel argomento ma non so come dirlo chiaro le processioni oppure frasi del tipo dal Covid ci salva l'intervento di Dio Padre sono frasi che deresponsabilizzano dal Covid ci salva l'intelligenza il buon comportamento l'attenzione l'amore che ho per gli altri il sacrificio che mi assumo e il resto e mi ammalo di Covid mi ammalo gravemente posso chiedere un intervento questo ne sono certo però io temo che qualche volta noi facciamo passare nel nostro mondo il fatto che l'uomo è deresponsabilizzato ecco e questo vorrei io rimango sempre un po' però della mia idea che andiamo poi per slogan e gli slogan vanno approfonditi ma l'avete già sentito tante volte quando in qualche lager che non mi ricordo più qual era stavano impiccando un po' di ebrei e qualcuno di quelli a qui erano costretti a guardare dicevano dov'è il tuo Dio in questo a voi ebrei che credete ecco e dov'è il vostro Dio e qualcuno ha risposto è là che lo stanno impiccando insieme ai miei amici cioè è stato un fallimento il fidarsi di Dio l'accordo l'ebreo adesso ha accettato il paragone stiamo parlando di fede ebraica in Dio padre in Dio e non nella fede cristiana in Gesù Cristo che è Dio incarnato ecco però il concetto è abbastanza quello il fallimento di Dio nella storia non è perché qualcuno tutti noi prima o poi proveremo il dolore la disperazione e così via il fallimento è se non non accettiamo di viverlo insieme però vi ripeto io non ho mai provato dolori enormi ecco noi siamo lombardi lombardi del nord viviamo in posti belli abbiamo tutto il lavoro ecco per cui non ho mai visto come altre persone che so che ogni giorno non so non so cosa dar da mangiare a mio figlio con il rischio di vederlo morire ecco per cui a volte e poi basta faccio fatica a pormi in posizione di estremo dolore perché l'estremo dolore non l'ho mai provato rimani di più e ci tengo invece l'intervento di Gesù verso i dodici anni della ragazzina che vuol dire la capacità un intervento che salva e richiama un'altra responsabilità da qui in poi tocca a te ricorrere di nuovo quella alzati io lo vedo come vai trovati un ragazzo parti e fai una famiglia cioè continua a collaborare alla generazione della vita continua a collaborare col piano di Dio prendi questa occasione che ti è stata ridata questi anni in più che ti sono stati donati e riparti cambia la tua vita ecco chiuso ma in effetti è la stessa cosa che dico io perché quando parlo di fede non intendo solo quello che intendeva Lutero cioè la fede senza le opere quando io parlo di fede intendo dire proprio praticare la volontà di Dio e la pratica della volontà di Dio è tutto quello che sta dicendo lei perché la fede se non la dimostri così non la dimostri più quindi su questo sono assolutamente d'accordo io non ho l'ho dato per scontato cioè adesso mentre lei parlava probabilmente mi sono reso conto che io ho dato per scontato che la fede fosse questa avrei dovuto probabilmente precisarlo ecco però è così è vero cioè va e adesso fai quello che la volontà di Dio ti richiede e cioè comportarti in questa maniera quello che faccio io per il bene dell'uomo lo farai tu per il bene degli altri uomini che sono con te questo assolutamente era inevitabile cioè questo era sicuro ma perché è la dottrina della Chiesa Cattolica che è appunto contraria o comunque diversa rispetto alla dottrina della Chiesa Protestante che invece pensa in maniera come diceva lei ecco de responsabilizzare tant'è vero che siamo arrivati con Lutero lo sappiamo tutti alla famosa predestinazione cioè Dio decide chi si salva e chi no poco importa le tue belle opere tant'è vero che lui voleva togliere tutti quei testi del Nuovo Testamento che parlava della morale cioè del comportamento che gli uomini avrebbero dovuto avere nei confronti degli altri uomini ha tolto Giacomo ha tolto la lettera di Giovanni ha tolto la lettera agli ebrei ha tolto l'Apocalisse dove invece è chiaro che l'uomo deve fare la volontà del padre proprio perché come il padre e Gesù deve anche lui amare tutti gli altri che lo circondano quindi assolutamente d'accordo con la sua posizione nessuna deresponsabilizzazione anzi è proprio il contrario la grazia funziona nel momento in cui tu hai fede e fai quello che ti viene detto ecco perché dicevo che gli apostoli noi abbiamo questa possibilità di leggere attraverso gli errori degli apostoli fare in modo che noi non commettiamo gli stessi errori e che non sarà facile perché tutti quanti siamo uomini quindi non sarà facile però condivido la sua posizione va bene penso che gli apostoli siano dei fratelli compagni di strada che insomma ci fanno sentire come dire normali hanno sbagliato tanto quanto sbagliamo noi e quindi sono dei buoni compagni di strada che ci fanno ben sperare insomma che anche anche noi ce la faremo insomma nella nostra vita o almeno ci avvicineremo insomma dunque penso che possiamo non so non voglio togliere la parola a nessuno ditemi voi se qualcuno vuole dire qualcosa altrimenti essendo le dieci potremmo anche concludere Don Marco volevo solo aggiungere considerando appunto quello che ha appena detto lei alla fine che appunto questa è la ragione per cui come giustamente si sostiene in teologia fondamentale che in realtà noi non siamo discepoli di serie P siamo allo stesso livello di chi ha vissuto con Gesù perché come lui come noi come loro anche noi commettiamo i nostri peccati e spesso invece c'è questa differenza che viene considerato un alibi e invece no anzi paradossalmente noi lo conosciamo già risuscitato e quindi capite che da questo punto di vista abbiamo paradossalmente un vantaggio in più è vero è vero beati coloro che pur non avendo visto crederanno dunque beh grazie davvero tantissime è stato veramente una serata proficua profonda ha suscitato tanta curiosità secondo me voglia di approcciare così la parola di Dio il Vangelo soprattutto e per cui davvero tante grazie magari approfitteremo della conoscenza per qualche altra occasione chi lo sa intanto va bene quindi direi che ci avviamo alla conclusione Marina leggerà per tutti il Salmo 113 che poi ciascuno può leggere diciamo in silenzioso sta citando il microfono e poi Don Marco ci dai la benedizione conclusiva grazie davvero dottor Bonelli e buona prosecuzione a tutti della settimana per chi ci sarà domani mattina all'appuntamento dell'Adoro il lunedì nella chiesa di Besnate alle 7 e un quarto lasciamo la parola grazie grazie tante alleluia lodate i servi del Signore lodate il nome del Signore sia benedetto il nome del Signore ora e sempre dal sorgere del sole al suo tramonto sia lodato il nome del Signore su tutti i popoli eccelso è il Signore più alta dei cieli è la sua gloria chi è pari al Signore nostro Dio che siede nell'alto e si china a guardare nei cieli e sulla terra solleva l'indigente dalla polvere dall'immondizia rialza al povero per farlo sedere tra i principi tra i principi del suo popolo fa abitare la sterile nella sua casa quale madre gioiosa di figli il Signore sia con voi Kirie Eleison Kirie Eleison Kirie Eleison e vi benedica Dio Onnipotente che è Padre Figlio e Spirito Santo Amen Amen Buonanotte Grazie Buonanotte a tutti Buonanotte Buonanotte Grazie Buonanotte Grazie Grazie La saluta nei corsisti Grazie 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 Buonanotte 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 Ciao a tutti Grazie Buonanotte